7.000 professionisti, 200 aziende disseminate lungo tutta la penisola, un fatturato da 2 miliardi di euro e la prospettiva di crescere ancora. Sono i numeri del settore spaziale italiano impegnato sui fronti dello sviluppo economico e dell'innovazione. Se ne è parlato il 20 e 21 settembre all'evento G20 Space Economy Leaders Meeting, una a due giorni organizzata dall'Agenzia Spaziale Italiana, l'ASI, con una sessione dedicata al confronto tra i leader delle agenzie spaziali di tutto il mondo e per la prima volta una sessione per l'industria. Non esiste economia spaziale senza industria, ha chiarito il presidente dell'ASI, Giorgio Saccoccia. In Italia l'industria spaziale è rappresentata non solo da grandi realtà come i colossi Leonardo, Tales, Regna Space e OHB, ma anche da una miriade di piccole e medie imprese e start-up che con il loro lavoro contribuiscono in maniera significativa alla catena del valore spaziale. Saccoccia ha ricordato la recente pubblicazione del nuovo catalogo dell'industria spaziale italiana, con il dettaglio di prodotti, servizi, applicazioni e tecnologie, sottolineando l'obiettivo di includere la Space Economy nel Business 20 Forum, cioè il forum globale di dialogo della comunità imprenditoriale con il G20. La Space Economy produce ricchezza e anche benessere. Noi abbiamo l'onere e l'onore di portare lo spazio nell'agenda di tutti, ha sottolineato il presidente di ASI nella prima sessione del meeting, le cui però le chiave sono quelle scelte dalla presidenza italiana del G20. People, planet, prosperity. Tre pilastri di cui il settore spaziale conosce bene l'essenza. Uno dei temi principali della Space Economy è proprio quello dell'uso delle tecnologie spaziali per il miglioramento della vita sulla Terra, per cui lo spazio diventa di fatto un mezzo per migliorare la vita delle persone. Le tecnologie di derivazione spaziale aumentano e la pandemia l'ha mostrato bene, specie nei campi della telemedicina e della didattica a distanza. Sul fronte della protezione del pianeta Terra, lo spazio offre molteplici missioni che controllano lo stato di salute del pianeta dallo spazio, contribuendo la mappatura di terre e coste per agevolare la programmazione di interventi di protezione o anche la costruzione di nuove infrastrutture senza dimenticare il ruolo dei satelliti nel controllo dell'inquinamento e quello legato ai dati relativi ai cambiamenti climatici. Peraltro quest'anno Italia e Gran Bretagna condividono la presidenza della COP26, con lo scopo di mettere al centro dell'agenda multilaterale i temi dei cambiamenti climatici e della tutela della biodiversità. Infine, il terzo pilastro, quello della prosperità, del benessere. La spesa economy porta dati e tecnologia in grado di migliorare le condizioni di vita. Le agenzie spaziali, ha ricordato il presidente di ASI, sono disponibili a mettere a disposizione le loro competenze per affrontare sfide globali. Tra le sfide individuate per il settore spaziale nel prossimo futuro, ci sono quelle legate alla sostenibilità e alla collaborazione. Uno dei problemi che attanaglia lo spazio è quello dei rifiuti. Si tratta di detriti, satelliti dismessi, scherge che vagano, costituiscono un vero e proprio inquinamento, pericoloso per le apparecchiature in funzione. Per arginarlo bisogna fare squadra, come accade spesso per le attività spaziali. A questo proposito, però, non basta il solo coordinamento. Il tema sul tavolo è anche quello della regolamentazione dello spazio. Insomma, di lavoro da fare ce n'è tanto su più piani. Intanto, dal meeting, le agenzie spaziali assicurano il loro impegno per la crescita sostenibile.